Buongiorno, eccoci per la nostra lettura del mese di aprile. È una lettura di un autore molto famoso per i grandi che ha anche raccolto delle storie per i più piccoli. Fiabe per Picciriddi, l'autore è Andrea Camilleri, pubblicato da Mondadori. Allora, in questo libro ci sono tantissime storie raccolte e molto ben illustrate da Giulia Orecchia che potete guardare e leggere una al giorno o una ogni due giorni. Io comincio a leggervene una che è una storia vera, è una storia vera che l'autore ha vissuto quando era piccolo come voi. Quando ero piccolo, che ancora frequentavo le scuole elementari, trascorrevo buona parte delle vacanze estive in campagna dai nonni. In campagna dai nonni davanti alla nostra casa si apriva un ampio cortile che si chiamava il Baglio. In questo cortile, oltre alla casa, c'erano altre due costruzioni basse. Una era la stalla e l'altra la carrozzeria. Perché carrozzeria? Perché era la rimessa delle carrozze quando non c'erano ancora le automobili. nella stalla abitavano una mula, un cavallo, un asinello e nella carrozzeria all'interno c'erano tre zone, una per il gallo, una per una ventina di galline, poi i conigli e due caprette. Guardate quanti animali. Era proprio una fattoria. Io mi alzavo di buon mattino, mi piaceva accompagnare la contadina, Rosalia, che andava da mangiare agli animali. E non appena mettevamo piede nel baglio, venivamo accolti da un assordante coro di nitriti, ragli, cocodecchi, chirichi e belati. Una volta distribuito il pasto a tutti gli animali, il coro si tramontava in un rumore misterioso prodotto dalle mascelle del cavallo, dell'asino, della mula, che mangiavano la biada, come se fosse fatta di croste di pane. Una mattina, appena dentro la carrozzeria, mi colpì un suono nuovo e diverso. Ecco qui che Andrea è entrato, Andrea detto nenè, è entrato nella carrozzeria dove ci sono le galline e i conigli. Vediamo che cosa trova. Un suono nuovo. Cercai con lo sguardo e vidi in fondo al pollaio una grossa cesta dagli altri bordi, alti bordi, dove si agitava una dozzina di pulcini appena nati. I pulcini se ne stavano tutti ammassati in un lato e non smettevano di saltare uno sull'altro, stringendosi tra loro sempre di più, fino a formare una massa agitata, tutta gialla e pigolante. In disparte, che li guardava un po' stranito, ci stava un pulcino più piccolo degli altri e piuttosto spelacchiato. Forse era cosciente della sua debolezza e non osava entrare nel mucchio con tutti gli altri. eccolo lì, tutto solo, sull'altro lato della cesta. Mi avvicinai alla cesta, mi inginocchiai accanto e in quel momento il pulcino solitario si voltò, mi vide, zampettò verso di me e quando mi fu vicinissimo mi guardò e fece piupi. Forse si era presentato? Forse sì. Quindi anch'io dissi piacere, mi chiamo Nenè. A quel punto piupi, cercò di stendere la luce, cominciò a saltellare e compresi che voleva superare il bordo della cesta e venire sempre più vicino. Allungai un braccio, lo presi in mano, lo posai a terra davanti a me, ci guardammo senza sapere cos'altro dirci. Eccoli lì, cominciano a conoscersi. Proprio in quel momento Rosalia, la contadina, mi disse che aveva terminato e che dovevamo andarcene. A domani, piupi. Ciao, ti feci per andarmene. Subito dopo sentì qualcosa che urtava contro i miei calcagni. Era piupi che mi seguiva, mi seguiva da vicino accompagnandomi fino all'uscita. Mi seguì anche in cortile. Per entrare nel portone di casa bisognava salire due gradini. Io salì, ma piupi non ce la fece. Si mise a gridare piupi, 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 facendomi chiaramente capire che voleva che lo aiutassi a salire. L'ho preso in mano, andai in cucina dove trovai la nonna che trafficava i fornelli. Eccola qua la nonna, la vedete? Lo posso tenere, nonna? Certo, se vuoi lo puoi tenere, ma vada a trattarlo bene, fece la nonna. E così lo portai nella mia stanzetta, lo lasciai lì, chiusi la porta per evitare che uscisse. Andrei a cercare un piccolo cestino, un pezzo di tela per coprirlo, due lattine vuote di tonno che riempì, una d'acqua e una di mangime, e portai tutto in camera. In un angolo preparai la sua cuccia. Piupi si mostrò molto soddisfatto della sestimazione. Eccola lì. Il pulcino piupì. A quel tempo la luce elettrica non c'era, in casa, e quando faceva buio si accendevano i lumi a petrolio e i candelieri. Quella sera, appena fui pronto per andarmi a letto a coricare, la nonna mi accompagnò con il candeliere nella mia stanzetta. Piupi se ne stava dentro la cestina e pareva addormentato. Mi spogliai, mi misi a letto, nonna mi augurò la buonanotte con un bacio, e se ne andò portandosi via il candeliere. Io stavo per addormentarmi quando nel buio profondo sentì vicinissimo al letto Piupi, Piupi, Piupi. Mi chinai, stesi un braccio, le mie dita incontrarono le piume morbide del pulcino, il quale, fatto un saltino, si ritrovò nel palmo della mia mano. E quindi cosa succederà? Lo sapete già. Il pulcino dorme con Nenè. Eccolo qua. Diventa proprio il suo amico del cuore. La storia continua, è molto lunga, non la possiamo leggere tutta. Io vi consiglio di finirla, perché avere un bel pulcino del cuore non è male. Però quante storie abbiamo ascoltato anche dai nostri nonni? E allora il lavoro che vi suggerisco di fare è scegliete una storia che avete sentito raccontare ai vostri nonni, ai vostri zie, una storia a cui siete molto affezionati. E provate a raccontarla voi attraverso una sequenza di immagini e parole, perché è più facile con le immagini e le parole. Guardate, una sequenza come questa. La storia dei nonni. Queste sono le sequenze di immagini. Io ve ne ho messe due, poi tre di fila, poi altre due. E sotto, dove c'è la riga verde, potete scrivere le parole per spiegare che cosa succede. Dentro alle immagini, nei riquadri, nelle vignette, potete usare anche i fumetti, se volete. Oppure solo un bel disegno colorato. Mandateci le vostre storie dei nonni. Grazie e alla prossima. Ciao ciao!